Un pulsante a pressione Allora innanzitutto Mi spiace ma sto casco Non ce lo vedo proprio Si sta attivando Troviamone un altro Sono tornati i nostri amici non morti Ostia Eccolo c'ho uno Ah l'ho già attivata quella lì Ah è grosso Anche questa è attivata Fortuna che Nefarios non ha una mappa Per trovare la mappa Che cazzo Ne resta solo una Non dov'essere la cia d'uscita Sembra la sala macchina inferiore Questa nave ha una Tostura bizzarra Perché Nefarios non ha appeso Un insegna con sritto uscita Un insegna con sritto uscita Non c'è la mappa Non c'è la mappa Non c'è la mappa Non fatemi correre troppo Fortuna 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 Volta vacca Ok E siamo a 2 Ja E siamo a 2 Ok... E ci buttiamo... E' fatta! Ottimo! Non avrei mai pensato di dirlo! Bene! Non hai fatto voto di non-violenza, vero? Sfortunatamente! D'accordo! Ti... E va bene! Ma ora dobbiamo scendere, vero? E si batte! Ok, qua si scende... E ok... Ma qua? Cavolo, la console della porta è stata infettata da un virus! Ma scommetto che Glitch può darci una mano! Vai Glitchi! Cosa è successo qui? Ah, Glitch! Siamo lieti che tu sia venuto a trovarci direttamente! Ti abbiamo riservato un caldo! Caldissimo bello! Beh, non lo tocco! Magari i bizzi infestati avrai tolerto! Mi ricordo... Ah ok Una quest No 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 Quanti cazzo siete Wow 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 Boom! Dati saluti Un studo non vuole cedere! Quando il banco dimensionale ci ha dato la possibilità di diffonderci ovunque Non avremmo mai sperato che ci conducesse da qualcuno come te Grix E invece Come me Sei stata tu a farci erogere In che senso Quelle battaglie sono state straordinariamente Estruttive Cancellato! Questi lini sono coriace Magno passare ai blitz infettanti No 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 Ne ho capito cazzo Allora qui Ok mancano qui due lì Ok una di qua Amici Locativamente No 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 no! Oh no! Juul ma che ha fatto il piccolo? e le due? e le due? ma che? ma che? ma che? ma che? ma che? ma che? Oh, c'è troia Non posso andare di qua, no 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 Questa è quella che ho fatto fuori prima Una sprossatina di archivirus Hola Oh Già anche se li ho fatti Non scusami li ho fatti Sono obbligato Manco un gatto c'è a rio di qua Troppo muoio Sperando Oh, è la tua serata fortuna Non è fortuna è abilità Sacco rigonfio di mozzo spaziale Sto solo sprecando munici Più insisti più doloroso sarà il tuo fallimento Sto morendo Cosa che manca da disattivare Questo è andato giusto Questo è andato giusto Questo su Devo infrangere il suo Finché le dimensioni non verranno riparate Torneremo all'attacco Non ti libererai mai di noi Avanzi Avanzi Fatti Santo Nooo Porca vacca Con due di vita Sì 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 Mi ho fermati Ce l'ho fatto Mi ho davvero fermati Ieri Ieri non facevo che cancellare file obsoleti Mentre oggi Sì Finalmente Ho tutto questo per una super monetanza Sì Sì E andiamo di là adesso Sì 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 Sì